Coltivazione della zucchina spinosa ragazzi guardate quanto è carina questi frutti particolari poi andiamo anche a capire perché sono particolari la coltivazione quindi dalla A alla Z andremo a vedere come si semina la zucchina come cresce il suo habitat che cosa c'è da fare le annaffiature la fertilizzazione i trattamenti fino alla raccolta quindi video che sono stati come riprese lunghi un anno intero poi montati qui su natura e bellezza facciamo sempre le cose con un certo senso video tutorial informativi intanto poso queste vi faccio vedere quest'altra tanto così per curiosità adesso andremo a iniziare appunto dalla semina guardate qua il germoglio che sta uscendo da questa zucchina spinosa perché sono ortaggi curiosi uno innanzitutto non si trovano chiaramente sul mercato visto che sono ricoperti praticamente di queste spine chiaramente poco commercializzabili perché sono curiosi perché io vado a seminare tutto il frutto che nascerà sulla pianta e quindi dovrò prendere quando raccoglierò le mie zucchine spinose novembre dicembre anche gennaio prendere dei frutti invece di mangiarmeli poi metterli da parte per andarli a riseminare l'anno successivo ma curioso questo ortaggio perché perché ragazzi anche se fa parte delle curcubitacee quindi come se fosse una zucchina un melone un anguria e così via ha lo stesso sapore lo stesso retrogusto di una patata e si può fare in tutte le maniere in cui facciamo la patata ragazzi queste le fettine di zucchina spinosa fritte come le patatine sono eccezionali fatele due o tre di frutti perché vanno via ruba poi questa zucchina insomma inizia a fare i suoi 500 600 grammi posso assicurarvi che una pianta riesce anche a fare da 10 fino a 20 chili la mettete in un punto perché è una pianta rampicante in fondo all'orto dove si può arrampicare con i suoi vitici la lasciate lì ha proprio bisogno di 4 cure 4 e voi raccoglierete frutti davvero interessanti vi dico l'ultima e poi passiamo subito a vedere tutta quanta la coltivazione questa pianta se trova l'abitat ideale dove non ci sono quei rigori invernali che bruciano tutto quanto è perenne che vuol dire che magari d'inverno a gennaio la pianta che è cresciuta la vedrete che si è spogliata si è seccata ma sotto ha fatto delle radici con dei tubri da cui poi di nuovo nasceranno tante piante di zucchina che potranno produrre di nuovo zucchine non come la pianta originata dal seme il primo anno ma comunque possono darvi di nuovo ottimi risultati all'interno della zucchina quando noi la tagliamo troviamo un unico punto centrale rotondo al cui interno c'è l'embrione quindi quando noi dobbiamo andare a seminare la nostra zucchina dovremo andare a seminare tutto il frutto perché all'interno appunto c'è soltanto l'embrione che cosa accade quando noi siamo verso febbraio marzo che dalla parte eccolo qua il piccolo germoglio opposta al picciolo qui c'era il picciolo dalla parte opposta inizierà a fuoriuscire il germoglio come se fosse una patata la stessa cosa è una zucchina ma fa il ciccio come la patata e lo fa dall'interno del seme prendiamo però questa zucchina di qui che ha un germoglio già cresciuto eccolo qua come vedete essi mantengono chiaramente nella dispensa o nelle cantine come se fossero appunto delle patate che vuol dire che raccolgo ottobre novembre dicembre gennaio e le metto lì nella dispensa senza fargli nulla si mantengono che è uno spettacolo e quando lei inizierà a fare il ciccio vorrà di che è come la patata se la devo consumare lo tolgo e poi consumerò tranquillamente la mia zucchina e ho ucciso chiaramente il frutto non nascerà più nulla oppure me la vado a seminare il periodo di semina della zucchina spinosa e la primavera teniamo sempre sotto osservazione le nostre zucchine quando iniziano a fare il germoglio e il germoglio è alto 5 10 centimetri è il momento adatto per andarle a seminare iniziamo con l'habitat prendiamo una zona di terreno del nostro orto dove sta comunque ai confini in modo che quando la pianta crescerà potrà essere sorretta dai sostegni ad esempio qua poi quando la pianta cresce riuscirà ad arrampicarsi bene con i viticci alla rete sovrastante di questo muretto di confine la condizione ottimale per farla crescere è quella in mezz'ombra perché questa pianta davvero quando inizia a far crescere i suoi rami che raggiungono anche 10 metri di acqua ragazzi ne vuole parecchie se noi abbiamo un terreno ben soffice fertilizzato e una zona in mezz'ombra vedrete che spettacolo di frutti che vi farà va benissimo un terreno che ha un ph da 6 e mezzo a 7 e mezzo e vuole un terreno bello soffice drenante ricco di materiale organico non vuole terreni pesanti perché sui terreni pesanti questa pianta potrebbe fare marciumi radicali in tutti quei casi in cui noi abbiamo un terreno invece argilloso pesante per evitare marciumi radicali si fa così si fa una bella sella una duna e sopra ci andremo a posizionare la nostra zucchina adesso se verrà giù acqua piovana non rimane vicino all'apparato radicale che altrimenti marcirebbe ma sgronda verso l'esterno e seminiamo finalmente questa zucca dove io posiziono la zucca per una zona almeno larga 40 centimetri e profonda 30 35 io dovrò smuovere il terreno e renderlo bello fine e soffice poi chiaramente dovrò andare ad inserire il fertilizzante per ogni zucca ci va inserito nel terreno e poi miscelato tre chilogrammi di letame maturo di ovino o di bovino mi raccomando maturo e se è maturo guardate qua ci sono anche dei bei lombrichi una volta che avete ben fertilizzato livellate di nuovo il terreno e a questo punto fate una fossa che deve essere profonda quanto la metà di questo frutto ok quindi si interra così per metà e poi si va a ricoprire tutto intorno in questo modo qua le annaffiature adesso noi non dobbiamo far nulla quando il germoglio sarà alto 30 centimetri allora c'è anche già la radice che inizia a penetrare nel terreno allora dovremmo dare la prima annaffiata abbondante però le annaffiate successive fino a che la pianta non inizierà a fiorire devono essere sempre graduali mai esagerare come si dice terreno umido sì ma mai troppo zuppo perché ripeto un'altra volta scusatemi se lo ripeto la zucchina spinosa soffre di marciumi radicali e vediamo la fase di crescita della nostra zucchina allora come vedete il germoglio è alto solamente una quindicina di centimetri sta proprio venendo su in modo perfetto ma già emesso il suo primo viticcio alla ricerca di qualcosa a cui aggrapparsi a sorreggersi e continuerà a farne continuamente mano a mano che crescerà eccoli qua guardate qualche carini qui siamo alla fine di maggio e siamo di fronte alla zucchina spinosa quella liscia quella che si trova nei supermercati chiamata che iote ossa iote nei mercati indiani osserviamo anche come cresce come si sviluppa e come si ancora la zucchina spinosa ad ogni nodo i nodi saranno distanti gli uni dagli altri lungo il fusto circa 15 20 centimetri nasce sia la bellissima foglia che il viticcio la foglia e il viticcio sono sullo stesso piano ma sono ad un'angolazione di 90 cento gradi tra la foglia e il viticcio poi nascerà un germoglio da dove nascerà il fiore i viticci sono molto robusti e si ancorano in modo saldo alle strutture che trovano rinascono chiaramente alla ascella della foglia nei nodi sono davvero molto molto piccoli dal fiore impollinato eccolo qua poi inizierà a formarsi la nostra zucchina spinosa già si iniziano a vedere le minuscole spine queste piccole zucchine fate il confronto con il mio dito nell'arco di tre quattro mesi saranno pronte per essere raccolte siamo pronti a questo punto o per mangiarle o per metterle da parte e seminarle l'anno prossimo la raccolta avviene quando è tra ottobre e gennaio quando comunque la zucchina inizia dal verde acceso a diventare un verde chiaro tendente verso il giallo gli insetti che possono attaccare la pianta sono ad esempio le minatrici piccole larve che scavano la superficie fogliare della pianta e vivono tra la lamina per combatterle si utilizza l'olio di nime un prodotto traslaminare quindi vuol dire che passa nella foglia della pianta e va ad eliminare l'insetto vi sto mettendo qui in alto il link per vedere come si utilizza il prodotto la pianta come tutte le curcubitacee è aggredita da patologie fungine qui stiamo vedendo la peronospora per fare prevenzione contro queste malattie possiamo utilizzare ad esempio le zeolitica basiti tutte quelle polvere di roccia che fanno prevenzione contro le patologie fungine vi sto mettendo qui in alto il link del video e vedere come si utilizzano quando la pianta è piccolina subito 15 20 giorni dopo il momento della nascita possiamo utilizzare anche il rame lo zoram che è costituito ad esempio da rame zolfo in questo momento la pianta ancora piccolina le temperature sono fresche e possiamo trattare con questo prodotto che preserverà l'attacco delle malattie un insetto davvero temibile è il ragnetto rosso può anche debilitare e addirittura far seccare la pianta in modo molto veloce i danni si vedono e si riconoscono facilmente quando sulla vostra pianta iniziata a vedere tutte queste punti nature e bianche che poi tenderanno a seccare è questo piccolo acaro è grande circa due millimetri cerchiamo di zoomare di far chiaro questo aspetto vedete quei piccoli punti rossi ecco quello è il ragnetto rosso come possiamo fare per debellarlo in un modo molto molto semplice un ottimo prodotto è l'olio di nimmen aggiunta al sapone molle potassico basta prendere 8 ml di olio di nimme 5 ml di sapone molle potassico si mescola insieme si mette in un litro di acqua e si nebulizza in tarda serata la nostra pianta colpendo soprattutto le foglie sottostanti mi raccomando temperature massime estive sempre sotto a 32 gradi centigradi vi saluto così ragazzi mi raccomando è sempre in gamba prodotti biologici ci vediamo al prossimo video un abbraccio a tutti da pier giorgio ciao ragazzi i can boogie but i need a certain song i can boogie but i need a certain song